Il degrado è l'altra faccia della bellezza di Collemaggio, l'area interna invece dove sorgeva l'ex ospedale psichiatrico è terra di nessuno, accessibile a chiunque con palazzine inagibili e dismesse, spesso luogo di bivacco. E l'area che un tempo aveva questa struttura di riabilitazione psichiatrica villarosa voluta dallo psichiatra guilano e il dottor Vittorio Sconci è divenuta a tutti gli effetti una discarica a cielo aperto, la cosa grave è che queste cose rimangono qui senza cura, senza nessun tipo di attenzione o interesse e la gente continua a buttare i propri rifiuti, materassi, frigoriferi vecchi, anche lavatrici. E come vedete lo spettacolo è assolutamente indegno e indecoroso. Il degrado qui è massimo, nella palazzina rosa che si chiamava Villa Rosa, ma di quell'esperienza oggi non resta traccia, in quel luogo segnato ormai dall'incuria di anni e dall'inciviltà di chi vi ha abbandonato rifiuti di ogni genere e continua a farlo. A pochi passi c'è anche l'ex Accademia dell'Immagine, un tempo fiore all'occhiello della città. Almeno per questo edificio però verrà fuori un progetto eccellente. Il Conservatorio Casella, come è noto, si è giudicato all'asta alla struttura da tempo. Ora, come spiega Reteotto il presidente del Conservatorio, Domenico De Nardis, stanno aspettando alcuni passaggi. Ci sono una serie di messi a punto da fare con la struttura tecnica di missione per far accreditare al Comune, indicato dal 2012 come stazione appaltante, le somme stanziate per il recupero dell'immobile, che stanno sulla conversione del Decreto Legge del 2009 addirittura a fondi CIP per 6 milioni di euro. La donazione della SIAE al Casella, invece, è servita per comprare la struttura con 450 mila euro. Ci sono anche fondi avanzati che, grazie a un accordo integrativo con SIAE Comune, vengono usati per il Festival dei Jets per quest'anno e per gli anni successivi. Il Casella, inoltre, ha già fondi per il concorso di progettazione, perché si vuole fare un progetto eccellente, con un risultato di qualità, con una procedura simile usata per Porta Barete. Attorno all'area di Colle Maggio c'è anche la recente approvazione da parte dell'Aggiunta Comunale del documento preliminare dell'avvio della progettazione per realizzare il Parco della Luna, un progetto per ristrutturare inizialmente 6 edifici, con un finanziamento totale di 10 milioni di euro. Il Comune ha così scongiurato la perdita di quei fondi, ma ora le tante associazioni che gravitano e gravitavano attorno all'area sperano di vedere una certa concretezza.